Mentre a Roma che si gioca la partita più importante sul risanamento, in attesa che il Consiglio dei Ministri ponga il sigillo sulla dichiarazione di stato di emergenza sociosanitaria, a livello locale la partita si combatte in Consiglio. Oggi il pronunciamento del civico consesso sull'assegnazione delle 50 case al villaggio Matteotti, 15 delle quali verranno assegnate ai residenti dell'ambito G, comprendenti alle zone di Via Macello, Vecchio e Via delle Mura. 15 famiglie che verranno allontanate dall'ambito di risanamento, secondo la delibera approvata ieri in giunta, che prevede che in caso di alloggi residui si procederà anche all'assegnazione a famiglie residenti nell'ambito B. Obiettivo procedere più celermente possibile, intanto pugno di ferro dell'amministrazione che ha posto i sigilli nelle baracche non sgomberate. Non avrò alcuna pietà per chi tenterà di occupare abusivamente le baracche che si sono già liberate per il progetto Capacity, scrive De Luca. Abbiamo in corso le procedure per l'affidamento dei lavori di eliminazione dei tetti in gran parte di Eternit e rendere inutilizzabili le baracche. Stanotte abbiamo dovuto mettere i sigilli per evitare l'occupazione abusiva. Mi occuperò personalmente di far sgomberare gli abusivi che tenteranno di approfittare di questa situazione.